A Montefiascone c'è un circolo privato, il Mega Dancing, che impegna il sabato sera di numerosi iscritti che amano incontrarsi nel ballo e nella musica. Questo circolo, dedicato a Liscio, è stato aperto proprio perché da qualche anno c'è stata una riscoperta di questo genere. Prova ne sono le tante scuole esistenti un po' in tutta la provincia. Al circolo possono associarsi non solo i cittadini di Montefiascone, ma anche coloro che risiedono in altri paesi. Ma vediamoli in azione. Grazie Grazie